ciao a tutti questo è il video sull'utilizzo del forno d'ara se non sei ancora iscritto al mio canale iscriviti costa solo un click e sì così google puoi vedere le mie preferenze per questo impasto che potrai trovare giù in descrizione ho usato due tipi di farina la nuvola caputo e la petra 5078 eccezionali se non le conosci provale si è arrivato raffaele bonetta ma che ci fai qui vuoi andare di là per favore che sto registrando il video la mamma mi ha detto di venire a controllare cosa stai facendo vabbè vai col video a Grazie a tutti 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 Grazie a tutti